L'amministrazione comunale di Castellabate, nell'ambito della revisione della numerazione civica interna ed esterna e della toponomastica, ha avviato l'attività di mappatura sul tutto il territorio comunale. Per questo servizio è stata incaricata la T-Gamma Tributi SRL Publicis S.P.A. con la collaborazione della società Annemea, la quale dal 27 agosto scorso è partita per la rilevazione e l'aggiornamento della suddetta numerazione civica attraverso proprio personale. Gli operatori saranno facilmente riconoscibili perché muniti di tesserino di riconoscimento del comune di Castellabate ed effettueranno le verifiche dalle ore 7 alle ore 20 dal lunedì alla domenica. Non è prevista la sottoscrizione di alcun documento né il pagamento di somme di denaro. Si specifica inoltre che il censimento riguarderà la numerazione civica esterna e che quindi il personale addetto non è autorizzato ad entrare all'interno delle abitazioni. L'aggiornamento della numerazione civica non comporterà oneri burocratici, per il cittadino, in quanto sarà compito degli uffici comunali comunicare i nuovi indirizzi a tutti gli enti pubblici di competenza. Il consigliere delegato alla toponomastica Maria Cristina Cardullo dichiara trova attuazione la nostra scelta di rivisitare complessivamente la toponomastica e la numerazione civica dell'intero territorio comunale piuttosto che procedere alla verifica delle singole richieste pervenute. Il sindaco Costabile Spinelli precisa alla forte valenza del progetto. L'aggiornamento della numerazione civica e della toponomastica, sottolinea Spinelli, è un elemento essenziale in quanto, oltre a riuscire ad individuare con facilità tutti gli indirizzi ricercati, attraverso il riordino toponomastico delle strade si favoriscono anche i mezzi di soccorso e di pubblica utilità come ambulanza, vigili del fuoco, poste e corrieri. Raggiungere più velocemente e con precisione il luogo di interesse migliorerà anche la collaborazione operativa con le forze dell'ordine, assicurando maggiori livelli di sicurezza per tutti i cittadini.